Con questa firma nella sede della Presidenza regionale è stata costituita Toscana Pharma Valley, la prima rete di imprese del settore farmaceutico in Toscana. Ne fanno parte tre società fortemente radicate sul territorio, Molteni, Cedrion e Delililli Italia, mentre GSK Vaxens supporta l'iniziativa ritenendola di alto valore strategico. Il contratto di rete punta a instaurare una collaborazione stabile e organizzata fra queste imprese per sviluppare una piattaforma di servizi logistico-digitali che consenta la distribuzione in tutto il mondo dei prodotti con costi minori e maggior sicurezza. È un contratto che Confindustria sta sponsorizzando da vari anni, soprattutto per la crescita di piccole e medie imprese e il fatto che lo facciano aziende di grandi dimensioni e di importanza strategica è un grande esempio anche perché per le piccole e medie. Quest'operazione consentirà risparmi notevoli alle imprese, noi daremo un contributo anche come regione per realizzare questo intervento e poi fungerà anche da attrazione, cioè consentirà a chi volesse venire a investire in Toscana di sapere che in Toscana c'è un'organizzazione logistica predisposta per trattare un prodotto così delicato come è quello del farmaco. La piattaforma logistico-digitale sarà realizzata in provincia di Livorno con un investimento di 60 milioni di euro e potrebbe creare fino a 150 nuovi posti di lavoro. I lavori partiranno nel 2019.